Ci troviamo costantemente in una dimensione del non vedere, tutti, chi più e chi meno. Però il non vedere non è solamente la visione di ciò che si vede con gli occhi. Questa pietra è un racconto, un racconto che non possiamo limitarci a guardare soltanto con gli occhi, bisogna ascoltare. Prima di venire qua non sapevo esattamente cosa sarebbe successo, cosa avrei visto, capito, cosa avrei visto. Blu chiaro, blu scuro, blu elettrico, blu come? Forse blu elettrico. Ragazzi ma vi rendete conto che state a parlare di sfumature del blu e la maggior parte di noi non l'ha mai visto? Però vabbè. Ragazzi ma vi rendete conto che state a parlare di sfumature del blu e la maggior parte di noi non l'ha mai visto.